Con Artur Bicis, nuovo giocatore della gestistica torrenomese, Arturs, quali sono le tue prime impressioni a Torrenova? I primi sensi sono buoni, la città è piccola, ma neanche la cia e mi piace questo gioco, quindi tutto è buono, mi piace. Torenova è alla prima stagione in Serie C, quali sono gli obiettivi tuoi e della squadra? Il mio obiettivo è sicuramente di vincere la città, come l'anno scorso in Corato.